Lo so fare per aiutarlo, io non sapevo ancora bene che dovevo fare con lui e quindi poi alla fine non so perché, c'è stato con la scintilla come due persone innamorate. Abbiamo trovato proprio il giusto equilibrio nell'aiuto, cioè il quadro lo sento mio e lui appunto mi passa i colori, mi aiuta, mi spiega, io se voglio mettere il colore in una certa zona del quadro, in un'altra zona, voglio fare una linea retta che divide il quadro in due, allora lui è molto prezioso e poi anche un artista, quindi anche quella sensibilità proprio dell'artista, del fumettista. All'inizio avevo anche più difficoltà a muovermi nello spazio tela. Oggi invece ho sviluppato delle tecniche che mi permettono proprio di poterlo fare, quindi magari come diceva lui, se io voglio dipingere il mare, solitamente faccio un terzo di mare, due terzi di cielo, metto proprio la mano, faccio una, cioè per me un palmo e un terzo e quindi riesco in questo modo, cioè io ho sviluppato anche con la tela e con la pittura un rapporto abbastanza erotico, diciamo nel tatto, nel tocco della tela, dei colori e del movimento. La nostra coppia di fatto, come dice lui, la nostra coppia di fatto è anche una coppia che dimostra come l'arte possa superare le barriere, perché io sono non vedente, lui è sordo e quindi... che mi è rimasto, cerco di sfruttarlo al meglio, attraccare sempre anche le musiche, perché a volte, sai, se metti le musiche troppo moderne oppure troppo pompose, non lo so, non riusciamo a trovarci. Invece lui attracca anche le musiche. Io metto anni 80-90, perché dopo la musica è morta, no, no, non è vero, non è vero, è successo anche qualcosa dopo, però noi, insomma, quando dipingiamo nel mio atelier, chiamiamolo così che è un garage, chiamiamo anche lui e attracca anche le musiche. Aiutare il prossimo a volte è un po' complicato, cioè non sai mai se aiutare, allora diventi... se aiuti troppo, sei troppo presente, se aiuti poco, magari, ecco, non aiuti. E invece con Massimiliano abbiamo trovato subito, chiamiamola così, l'intesa artistica e siamo riusciti, cioè io almeno mi trovo molto bene con lui, quindi quando mi aiuta, mi aiuta nel modo giusto e il quadro resta mio. Però il suo aiuto è comunque sempre importante e strategico. La mia collaborazione con Massimiliano insegna, secondo me, come l'arte sia capace di far superare le barriere. Cioè io non vedo, lui sente poco e niente, però comunque riusciamo a collaborare e riusciamo anche a produrre delle belle opere e questo credo sia la cosa più importante. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.